Che dobbiamo fare? Stare pronti. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali. E quando ne avremmo avuto bisogno, loro avrebbero combattuto quelle battaglie per noi insostenibili. Signori, preparatevi a dare il massimo. E quando ne avremmo avuto bisogno, E quando ne avremmo avuto bisogno. Grazie a tutti.